Una notte d'autunno dedicata allo shopping alla città, ai suoi cittadini, per rivalutare quanto di bello e quanto di buono può vantare con orgoglio il capoluogo Brindisi. L'iniziativa presentata a Palazzo Nervegna dal vice sindaco Paolo Baldassarre e dal presidente locale di Confesercenti Antonio D'Amore ha l'obiettivo di instillare l'infa vitale ai claudicanti affari dei commercianti del centro, formula già ammirata nei mesi scorsi in alcune zone della città e che ora, a partire dalle 18.30 di sabato pomeriggio, ripromette di attirare clienti e di rivalutare vie e piazze con una serie di eventi che vanno dalla musica all'enogastronomia, dalla danza classica alla breakdance. Bisogna smetterla con il qualunquismo, riscoprire un po' di sano campanile e soprattutto riscoprire la città. Questa serata, quella del 6 ottobre di sabato sera, tra l'altro la notte d'autunno, serve per restituire un altro scorcio di città ai cittadini. Piazza Cairoli, una delle piazze più importanti e più belle della nostra città, che è stata riscoperta negli ultimi tempi, soprattutto dai più giovani, dai giovanissimi e che in qualche modo adesso deve ricostruire e riconquistare la sua centralità. Faico Adamore è il vice sindaco Baldassarre che shopping a parte punta sulla riqualificazione delle zone sensibili del centro urbano Brindisino, dalla stazione a Piazza Cairoli, da Corso Umberto a Piazzetta Mercato. L'obiettivo del distretto urbano del commercio è quello di riqualificare il commercio, perché questo possa avvenire, bisogna andare al di là di risorse suppletive e proporre delle soluzioni stabili. Intanto una soluzione stabile sta che la riqualificazione passa attraverso la possibilità di mettere in rete gli operatori, di collegare e di connettere la realtà commerciale con i beni monumentali. Per l'occasione traffico veicolare è stoppato, per alcune zone si tratta di una novità assoluta. Se i risultati in termini di affari si confermassero buoni, a qualcuno chissà potrebbe anche venire l'idea di cambiare nuovamente idea.